Ciao ragazzi e benvenuti al primissimo appuntamento con Nairpool su Twitch dedicato chiaramente ai fumetti perché ci conoscete già sicuramente sul canale per tutte le attività che svolge la sezione games di streaming. Ci sono io che sono Jack e su Nairpool mi occupo della sezione fumetti chiaramente insieme a Simone e a tutto il resto del team. Simone è qui con me stasera e parleremo ovviamente di Anteprima 356 che è l'appuntamento fisso di tutti i malati di fumetti Marvel, DC e non solo e tutti i mesi appunto il 15 del mese anche se oggi abbiamo eh Simone fatto un po' fatica a reperire. Sì adesso è sempre un po' difficile trovarla ultimamente nel sito Panini però è un appuntamento ormai fisso cioè c'è un hype pazzesco ormai per Anteprima tutti i mesi. Esatto e ce l'abbiamo fatta finalmente a fare la nostra prima live con Nairpool che ci tenevamo tantissimo a portare anche contenuto dedicato appunto ai comics sul canale di Twitch. Partiamo andiamo direttamente subito alle novità di Anteprima che dopo l'introduzione ci porto ovviamente sulla DC Comics con Death Metal che in Anteprima 356 arriva al numero 4 evento ovviamente dedicato a Batman. e ovviamente per chi non è esperto per chi non conosce la storia di di questo evento Metal c'è un omnibus che ha pubblicato Panini prima era già stato pubblicato dal precedente editore ma è stato ristampato e ci permette appunto a chiunque di approfondire la parte precedente agli eventi di Death Metal e arrivare appunto all'evento attuale preparati. Le variant che seguono praticamente tutta la pubblicazione dell'evento sono tantissime e sono tutte dedicate alle band ovviamente che suonano musica metal. Io le sto personalmente le sto collezionando tutte e anche Simone so che... Sì sì io ho già preso la prima con i Megadeth, questa è con gli Opef, gli Opef sì. Eh no ce ne sono, cioè soprattutto secondo me la più bella è l'ultima e c'è il Batman che ride con Ozzy Osbourne però sì sicuramente cioè io le sto facendo tutte e l'evento alla fine forse se qualcuno ha già letto il primo numero comunque è sicuramente bello incasinato ma divertente e Snyder sicuro si è divertito un sacco a scrivere questa storia e vabbè poi ci sono Batman di tutti i tipi non diciamo nulla ma già nel primo numero sono delle belle versioni strambe di Batman diciamo. Diciamo che si vede tutta la passione di Snyder per i dinosauri no? Eh eh esatto. Non so l'avevi scritto proprio tu sulla recensione su Nairpool che avevi bellissima tra l'altro la recensione del numero uno di Dead Metal che ha fatto proprio Simone la trovate ovviamente su Nairpool.it e non diciamo nient'altro oltre a questo chiaramente gli autori sono Snyder e Capullo che è autore e disegnatore che sono la coppia ormai consolidata su questi temi. Allora secondo adesso andiamo veloci perché la carrellata sarà abbastanza diciamo come posso dire esplicativa un po' delle uscite ma non entriamo proprio nel merito di tutto ci prendiamo diciamo qualche pausa sulle cose più importanti. Ovviamente poi ci sono tutti i tie-in, tutte le raccolte che stanno attorno all'evento diciamo Death Metal come in questo caso Mixtape Volume 2 con autori tra l'altro qui c'è anche Tinion ovviamente al prezzo di 16 euro ed è un brossurato. Sì questi sono tre mi sembra e boh non lo so queste storie ma sicuro saranno belle, cioè ci sono un sacco di autori forti. Sì sì sono. Cioè per chi vuole avere tutto sull'evento cioè sicuro sono delle letture da fare. Esatto per chi vuole la visione completa proprio di tutto quello che sta intorno all'evento Death Metal e in generale funziona così con tutti gli eventi anche lato Marvel i tie-in sono la scelta giusta. Poi c'è invece chi preferisce soltanto stare sul focus della trama principale quindi è quello che abbiamo visto prima il numero da non perdere assolutamente. Spillati. Si arriva al numero 25 con Batman e qua sugli spillati andiamo velocissimi perché sono le uscite regolari quindi Batman 26 con ovviamente la Joker War e abbiamo Tinian IV sempre alla regia della serie. Superman numero 21 questo chiaramente è un altro spillato a 5 euro e uscirà al primo di luglio c'è Brian Michael Bendis. Batman Superman che è diciamo l'evento chiamiamolo Simone crossover. Sì sì l'incontro tra i due personaggi più importanti della DC. Gestito da Joshua Williamson che secondo me sta facendo benissimo su Flash sta facendo un lavoro pazzesco. Sì sì ormai è un po' gli sgoccioli la storia cioè in America è finita ma qua in Italia penso che anzi qua poi mi sa che nell'ultimo anteprima c'era l'ultimo numero tra gli ultimi due numeri della sua serie. Sì che è veramente spettacolare super colorata poi anche la trama è bella bella carica non c'è neanche un numero un episodio filler proprio tutto proprio perfettamente studiato. Personalmente è una delle run DC attualmente pubblicate in Italia che mi sta piacendo di più e anche su Batman Super ovviamente sta facendo un buon lavoro. Justice League è già arrivato al numero 13 che ovviamente ricordiamo queste numerazioni sono le numerazioni delle pubblicazioni panini non sono le numerazioni legacy. E qui autori abbiamo ancora Williamson Wonder Woman numero 13 altro spillato Wonder Woman 14. Andiamo via veloci Flash quello che vi dicevo prima sempre in questo caso però esatto. Non c'è più Williamson. C'è già l'interruzione era già l'ultima c'è già la nuova nuova gestione. Lanterna verde numero 14 e su lanterna verde ci fermiamo giusto due secondi perché merita secondo me una pausa su quel lavoro che sta facendo Morrison. Nel senso che in tanti abbiamo visto sia sui nostri account personali piuttosto che anche sulle richieste che arrivano direttamente a Nerpool chiedono se vale la pena iniziare lanterna verde dal numero uno diciamo di questa pubblicazione o recuperare eventualmente DC Connect che erano stati fatti all'inizio da Panini. Io personalmente la consiglio a chi ha letto l'inizio della run dal vecchio editore quindi i primi otto o nove numeri che erano usciti con Lion però per persone che conoscono bene Morrison perché sennò si rischia di trovare disegni bellissimi di Liam Sharp ma che sono che ricordano i disegni degli anni 70 80. E poi è una trama super criptica. Io avevo letto i primi numeri pubblicati da R.V. e erano sì super incasinatissimi. Poi l'avevo mollata però secondo me vale la pena leggerla perché è davvero appassionato sia di Lanterna verde che di Morrison e sa un po' come scrive lui. Esatto, cioè per i lettori hardcore di Morrison. Sì. Aquaman numero 13 è una run che per me è nuova. Non so se tu hai letto molto di più su Aquaman come personaggio rispetto a me. No, Aquaman no, no. Ho letto pochissimo, leggevo quello che pubblicavano negli spillati di Flash quindi gli inizi di questa run ma poi non lo stavo più prendendo. Io ho iniziato questa run un po' da neofita, anzi un po' tanto da neofita e all'inizio ho fatto fatica a introdurla. Proprio a parte perché mi mancava dei progressi sul personaggio che personalmente avevo toccato soltanto su alcuni eventi in cui compariva nella Justice League ma non avevo mai letto nulla di specifico su Aquaman. E arrivavo quindi con un percorso completamente diverso e personalmente quello che stiamo leggendo adesso per me non è, perché poi qualcosa ho recuperato in passato tramite il volume che era uscito di Aquaman anche di Seagold eccetera eccetera. Quindi qualche storia bella poi dopo l'ho letta e secondo me adesso... Quello era Jones mi sembra no? Sì, e adesso secondo me non siamo proprio all'apice diciamo del personaggio però comunque se ci sono qualcuno appassionato in modo particolare ecco chi si affaccia per la mia volta il consiglio è non fare mai il paragone a Aquaman del cinema con Aquaman che ce ne fume. Siamo su due cose completamente diverse. Sì, sì. Qui abbiamo Superman, il numero 6. Il numero passato. Esatto, la raccolta fa parte della collezione di DC Best Seller. Poi abbiamo, vabbè, il classicone di Snyder e Capullo. Qua stiamo parlando sempre di un formato Bonelli del 16x21. Sì, questo è quasi alla fine. Esatto, 4,90€ e come sempre il vantaggio di questo formato è il fatto che con prezzo decente diciamo 4,90€ si leggono però tantissime pagine, tantissime storie, 112 pagine. E qua arriviamo alla prima connessione importante di questo periodo tra il fumetto e il videogioco, ovvero Batman Fortnite.04 che in Italia chiaramente arriva SNI in orario, no, forse è già uscito qualcosa prima negli Stati Uniti. Non so se è in diretta esattamente su questo, non ve lo so dire. Però è una, diciamo, un crossover proprio tra gli eventi che avvengono all'interno del gioco di Fortnite, del Battle Royale che tutti conoscono, e il personaggio di Batman. Ovviamente cose già viste, nel senso che è già successo con Marvel, l'abbiamo visto con gli Avengers, sono tutti eventi che abbiamo già vissuto, anche in diretta tra l'altro l'evento di Fortnite con Marvel, proprio qui sul canale con i ragazzi che seguono la sezione Games. Mi sa che è la prima volta però tra Fortnite e DC, proprio. Era già comparso il Joker, se non sbaglio, però non sono serratissimo sul Joker, secondo me era già comparso il Joker. E andiamo avanti appunto con Batman Fortnite.0 numero 5, numero 6, eccetera, eccetera. E so, perché l'ho letto su un Airpool se non sbaglio, che ci saranno poi anche dei codici particolari per avere il piccone di Batman, eccetera, eccetera. Cioè ci sono delle connessioni poi proprio tra il fumetto, dei vantaggi a leggere il fumetto e quello che diciamo avviene poi nel gioco. Batman Catwoman numero 1, questo con la Variant arriva tra l'altro, che secondo me è bellissima, è la Variant Metal. E la storia praticamente è una sorta di proseguo, non so, possiamo chiamarlo così, di quello che King aveva fatto sulla run che si è conclusa da poco, a dicembre, in Italia, chiaramente, su Batman. E poi la gestione è passata a Tinion, ovviamente, e adesso c'è un ritorno di King con questa storia dedicata a proprio i due personaggi, Batman e Catwoman. Sì, boh, non sappiamo se King, cioè la sua idea era di scrivere una run più lunga inizialmente, poi da quello che si sa gliel'hanno un po' chiusa perché aveva iniziato a ricevere un po' di critiche. Però non lo so, a me era piaciuta, era un po' lenta, un po' decompressa perché c'era un numero in cui non succedeva nulla ma c'era tantissima introspezione psicologica. E però alla fine, boh, ci stava per me, era bello anche così. Sì, io sono sempre convinto che King sia più un autore da volume, diciamo così, chiamolo così, da sei storie, esatto, da miniserie, sei storie, ecco, tutte condensate in un po' di un volume. L'abbiamo visto su tantissimo, parlando da Visione, piuttosto che anche Strange Adventure, uno delle ultime che abbiamo letto. Sì, Mr. Miracle. Cioè, lui secondo me è quello che sulla run più lunga probabilmente, anche se io sono d'accordissimo con te, alla fine sono arrivato nella fase finale, diciamo, della run di King. Io non l'ho letto dall'inizio su Batman, sono entrato proprio a pie pari sull'ultimo arco narrativo e diciamo che comunque mi era piaciuta, non avevo trovato nessun difetto particolare. Andiamo avanti, che dopo ci sono i nostri colleghi di games che scalpitano, se no facciamo mezzanotte. E Rorschach, esatto, numero 3, personaggio preso direttamente da Watchmen. E c'è sempre King ovviamente. Queste invece, che è Queste, le morti di Vixage, ho letto il numero 1. E racconta la storia, racconta la storia di questo detective praticamente che ha questo volto coperto, diciamo, deve risolvere un po' di crimini all'interno della sua città, ma lo fa in un modo un po' particolare, abbastanza al limite della legge, diciamo. Non ho letto il numero 2 ancora, non so se lo leggerò, è Lemire chiaramente, però merita, merita soprattutto per un lettore di sì, il lettore di sì classico, diciamo, che è abituato un po' a queste ambientazioni noir, si troverà sicuramente a suo agio con una lettura del genere. Alec Queen e le Birds of Prey, numero 3. Questo ovviamente è una storia a sé rispetto allo spillato di Alec Queen che stiamo leggendo. Crisi finale, Simo, se vuoi dire qualcosa tu? Bello. Beh, questo è... forse c'è il più bel Dark Side degli ultimi anni. E qui è sempre Morrison, quindi, vabbè, è un evento abbastanza strano, ma un sacco bello. E soprattutto, non so se in questa edizione poi metteranno gli occhialini 3D, perché in realtà c'è una storia che è tutta in 3D. Dovrebbe essere Superman Beyond, mi sembra, che vedo lì nei credits. Comunque è bello. E poi è anche abbastanza legato al ciclo di Morrison su Batman. E succede una bella cosa a Batman. Diciamo che con Morrison è difficile trovare qualcosa che stonia sulle sue storie. Poi, soprattutto, secondo me, per ritornare proprio sul concetto di DC eventi che ha creato Panini, io penso che sia una figata per chi ha letto poco di DC. E quindi partendo da crisi sulle terre infinite, può andare avanti e trovarsi tutti in 6-7 brossurati. Sì, il prezzo è quello lì, 34 euro al netto dello sponso. Sì, ma infatti è una bella colana. Esatto. Esatto. Sì, sì. Vizi e virtù. Anche qui Geoff Jones. Quindi, altra bomba, 16 euro, cartonata. Anche qui Simo... Ah, questo è la JSA. Questa è stata ristampata ultimamente da RV in quegli omnibus giganti, ma... Che avevano fatto. Postavano un botto, quindi... Le bibbie, bellissime, tra l'altro. Sì, bellissime, però purtroppo... Boh, vediamo se ti ristamperà poi Panini in qualche modo. Arriviamo a DC Limited Collectors Edition, Batman, Guerra e il Crimine. Qui, vabbè, Dini e Alex Ross. I disegni di Ross parlano da soli. Formato gigante, è giusto che sia. Esatto, 22 euro. Poi abbiamo... Partiamo... Siamo con la, ovviamente, DC Rebirth Collection. C'è King, che ne abbiamo proprio parlato prima di questa run e viene praticamente riraccolta da Panini nei cartonati. Superman volume 4, Albanera. Anche qua stiamo parlando chiaramente di raccolte. Prezzo di 20 euro, 168 pagine. È chiaramente cartonato. Tra i tanti speciali che abbiamo visto negli ultimi mesi, adesso è arrivato il turno di Lanterna Verde, con l'ottantesimo. Ormai ne sta uscendo uno a mese, praticamente. Esatto, esatto, esatto. Abbiamo visto anche Joker, è stato bellissimo, l'abbiamo recuperato, era... Io l'ho letto. Sono quelle raccolte, diciamo, un po' antologiche, dove... Celebrative, chiamiamole così. Sì. Che se conosci il personaggio, lo esalti. Se il personaggio non lo conosci, ti dà un'infarinatura generale, ma poi io a un neofita non glielo consiglierei come prima della tua. Sì, sono storie tipo aggiuntive, extra, un po' per chi... a chi piace quel personaggio. Esatto. Justice League, Inverno senza fine, volume 2. Qua stiamo, ovviamente siamo entrati nella fase dei cartonati brossurati, che è sempre la fase, diciamo, finale di anteprima. Lato DC, chiaramente. Flash, l'uomo più veloce del mondo. Sì, questa è una storia che usciva in quei volumoni, nei Giant, quelli che erano l'inizio per i Walmart in America. E quindi tutte storie alternative o così. Qualcosa in più. Wonder Twins, volume 1. Attivazione. Qua siamo su letture che sono un po' al limite tra lo young adult, secondo me, che iniziano forse ad andare più verso lo young che l'adult. DC Classic, la Lega da Giustizia. Questo è molto adult, forse. Questo sì, paradossalmente sì. Come l'età, diciamo, più che... Per i fan dei classiconi, ecco. Cioè, a chi piace leggere proprio le storie di una volta, quindi erano anche tanto autoconclusive una volta rispetto ad adesso. E insomma, quei disegni così classici ha trovato panna per i suoi denti. Lettori un po' più recenti, meglio stare sulle cose attuali. Lucifer, volume 4. Diavolo in fondo al cuore, personaggio, quello di Lucifer, pazzesco, che arriva direttamente dall'universo di Sandman. E qui siamo entrati appunto a pie pari nella Sandman Universe. Questo ho comprato il primo numero, ma non l'ho letto ancora. Però secondo me ci sono delle belle serie nel Sandman Universe, che adesso è stato un po' rilanciato da Neil Gaiman. E c'è questa, tipo House of Whispers pure, sembrava... Books of Magic. Sì. Comunque il consiglio è sempre quello di partire, almeno personalmente, da Sandman. Cioè, leggetevi Sandman, recuperatevi tutta la raccolta e brussurata, compagnini. Adesso costa anche relativamente poco, c'è anche Cofanetto volendo. E lì praticamente, secondo me, si parte con una storia bellissima. Io la prima cosa che ho detto, quando ho letto il primo brussurato, ho detto ok, cioè, per forza deve andare calando. In realtà invece è un crescendo pazzesco, cioè, è una cosa assurda. Cioè, la sensazione è di dire, ecco, ho letto il primo brussurato, perfetto, qua ha raggiunto il masterpiece. Invece no, leggi il secondo e ti stupisci, leggi il terzo e ti stupisci un'altra volta. E più vai avanti, più è una storia... Sì, sì, ma poi ogni volume è strapieno di riferimenti alla letteratura, al teatro, a qualsiasi cosa. C'è un numero con Shakespeare, tipo, un sogno di una notte di mezza estate che è stupendo. Se non sbaglio è il terzo o il quarto... È il terzo, mi sembra. Il terzo, esatto, è il terzo volume. Sì. Qui abbiamo Y, l'ultimo uomo, parola d'ordine. Questa è Brian Kivogan e fa parte di tutta una serie di... La collana si chiama DC Black Label Eats, che sono tutta una serie di raccolte, di rilanci che ha fatto Panini quando adesso sta ripartendo, ovviamente. Sì, sono tutte vecchie serie Vertigo, che adesso non esiste più la Vertigo, è diventato tutto Black Label. Yes. E quindi... Poi si faranno una serie di TV, mi sembra, su... Sì. Sì, ho sentito anch'io... Infatti volevo recuperarla, però alla fine la casella era talmente piena che ho detto, vabbè, andiamo in tempi più avanti. Sì, tra l'altro l'ho scartato al posto di DMZ, però ne parleremo più avanti di DMZ. Sì, sì. Sui Tooth, qui abbiamo ancora Lemire, se non sbaglio. Sì. Lemire e prosegue questa, diciamo, storia che fa parte appunto sempre della collana di Sea Black Level Eats. Lemire si presenta da solo. Esatto, questi saranno sei volumi e poi c'è quello sotto, che invece è il rilancio che hanno fatto adesso. Una nuova miniserie, che poi è appena uscito l'ultimo numero, quindi la fanno a tempo di record anche qua in Italia. Esatto, infatti pubblicazione 2020, iniziata nel 2020 ed è uscita velocissimamente. Sì. E DC Comics abbiamo finito. Allora, passiamo direttamente alla Marvel, passando giusto, scorro velocissimamente quello che riguarda la Disney. Sappiate che comunque tutto quello che riguarda Anteprima si trova sul sito Panini. Se c'è qualcuno appassionato di Disney, poi ce lo faccio sapere magari anche nella chat, che la prossima volta organizzeremo uno slot temporale di live più lungo in modo tale da aggiungere anche Panini. Scusa, da aggiungere anche Disney. E arriviamo invece alla Marvel, che ho già spoilerato praticamente mezz'anteprima Marvel, sono uscito tra pochette. E King in Black, evento... E qua, quanto ci perdiamo? Mezz'ora su King in Black? Allora, innanzitutto la maglietta che indosso è ritirata oggi in fungeria apposta, esatto, per l'evento. L'hanno appena fatta, proprio per la live di Nairpool. Vabbè, evento chiaramente gestito da Donny Cates. La testata principale esce con il suo evento, quindi all'interno di Marvel miniserie, con King in Black. E cosa leggere anche? Sicuramente Venom. Questo è poco, ma sicuro. Io direi anche quasi sicuramente Spider-Man, che può essere importante come tie-in, ma poi dopo li vediamo tutti bene nel dettaglio. E ovviamente questa, la presentazione di anteprima 356, siamo già tra giugno e luglio, quindi saremo già inoltrati nell'evento. Proprio perché oggi è uscito il numero uno dell'evento, dell'arrivo di NAL. Chi è NAL? Velocemente inizio a parlarne io, poi chiude Simone. Vai, vai. È il dio dei simbionti, è stato scatenato praticamente da Eddie Brock nella sua penultima, perché poi in mezzo ci sono state la Venom Island, un po' di archi narrativi, Venom Beyond, eccetera. Però per combattere Carnage, insomma, alla fine deve arrivare una scelta importante, che è quella di salvare il mondo, salvare suo figlio, salva suo figlio. E quindi scatena questo dio dei simbionti, che adesso sta arrivando, e scopriremo attraverso le pagine dell'evento che cosa combinerà, insomma. Sì, e infatti adesso, cioè quasi, ormai è quasi arrivata alla fine la run di Cates, però adesso io ho recuperato da poco il primo volume e quando ha introdotto NAL, penso che sia stato uno dei momenti più belli su Venom da un sacco di anni. E poi è un personaggio che ha creato Cates e che poi l'ha riutilizzato, cioè si ritrova tipo in Silver Self a nero, a cui tiene molto Cates e quindi penso che anche in King in Black saprà sfruttarlo al meglio. Non ho ancora letto il primo numero della miniserie, quindi non so che cosa succederà. Stasera lo recupero sicuramente. Intanto sto rispondendo un po', approfitto di questa pausa, che ogni tanto sto... Quando parla Simone io rispondo nella chat, anche se è molto goffo, perché è la prima live che facciamo insieme, quindi siamo... Scusateci se un po' saremo impacciati, però qualche messaggio lo vedo passare e ogni tanto rispondo. E approfittiamo tra l'altro per salutare tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento, che ci fa piacere. Venom 35, chiaramente questo è quello che vi dicevo prima, ovviamente fa parte, diciamo, la storia, il tie-in più importante, chiamolo così, dell'evento King in Black, proprio perché segue gli eventi di Venom. Ovviamente c'è sempre Cates, come giustamente diceva Simone prima, sta finendo, però Cates poi ce lo ritroviamo in tante altre cose. Ad esempio, è su Thor in questo momento, aveva finito anche Guardiani della Galassia, ma abbiamo letto Companini, stiamo leggendo Thor adesso, che mi sta piacendo tantissimo e dopo ci arriviamo. Poi Buzzkill, che è stato pubblicato da Saldapress, un altro cartonato, l'ho letto proprio settimana scorsa e lo consiglio tantissimo alla storia di un supereroe che deve praticamente assumere sostanze superfacenti per avere i suoi poteri. Quindi lui vorrebbe liberarsi dalla dipendenza, ma non ce la fa perché deve combattere i nemici e quindi... Cioè, una storia pazzesca, veramente, che non potete assolutamente perdere. Tornando a Panini, tornando ad anteprima, Capitano America 31, qua siamo negli spillati, quindi andremo veloci. Storia, quella di Capitano America bella, personalmente ce ne sono state in passato di più belle, ecco, non è dal mio punto di vista il momento per entrare nella run. Fantastici 4, numero 31, anche qui andiamo veloci, la run di slot ormai consolidata, anche qui c'è un tie-in con King in Black. Determinante, direi in questo tie-in, probabilmente no. Io consiglio sicuramente Venom, l'ho già detto, e sicuramente Spider-Man. Sword, numero 3, è un altro evento importantissimo, anche qua ho giusto due parole, nel senso che abbiamo, all'interno del team creativo, Alli-Wing, che è lo stesso Alli-Wing che sta facendo praticamente un capolavoro sull'immortale Hulk. C'è il nostro Valerio Schiti, è importantissimo anche per tutti i fan degli X-Men, nel senso che, per chi non lo sapesse, Sword è lo shield spaziale, diciamo così, no? E questa associazione, chiamola così, questo corpo che difende il pianeta Terra dagli attacchi alieni, avrà un rapporto, una connessione diretta con quegli X-Men, quegli eventi di Krakoa. E questo evento Sword, che sta uscendo spillato, dal mio punto di vista merita. Ho letto qualcosina in anticipo, poi entrerò proprio nel dettaglio, poi la prossima anteprima ne parleremo meglio, sapremo darvi anche un consiglio più dettagliato. Però diciamo che è uno di quegli eventi che, insomma, meritano assolutamente attenzione. Sì, io sono un po' indietro con gli X-Men, perché non sto prendendo gli spillati, però è chiaro che Hickman ha tutta una sua visione che sta portando avanti, e lo sta facendo bene, penso. Cioè, leggendo in giro, comunque, mi sembra che piaccia tutto e ogni volta finisce una serie, ne arriva subito un'altra, quindi tutto ben pianificato. Sarà bello poi leggerlo quando usciranno volumi, spero presto. Esatto, esatto. Infatti, tutto il lavoro che sta facendo Hickman, secondo me, è veramente pazzesco e è difficile seguire tutto, perché sono tantissime testate, poi le vediamo. Però chi può investire, chi ha spazio nella casella, sicuramente ne vale la pena. Savage Avengers, andiamo veloci. Allora, Savage Avengers, praticamente, è un team pazzesco. Qualcuno l'ha definito Chetamarro. Esatto, perché qualcuno ha detto che probabilmente, ah, adesso classica Americanate, in realtà è divertente, però vi trovate Electra, Doctor Strange, Venom, Conan, che si hanno ammazzate con tutti gli stregoni e c'è un sacco di magia all'interno, un sacco di azione, però è bello, bello. E qui vediamo comparire un altro personaggio che, ovviamente, è Deadpool. Gary Duggan, sempre alla regia, diciamo, di questa serie, e sta spopolando perché doveva essere una miniserie di serie. Eh, infatti, invece, continua ancora. Invece è andata avanti proprio tantissimo. Qui abbiamo Daredevil 25, il nostro Chip Zaski con Checchetto. Bellissima, personalmente, molto introspettiva. Qui c'è un Matt Marduk, trovate un Matt Marduk in questa run, che ormai è arrivato, appunto, già a un numero abbastanza inoltrato, al numero 26-27, americano, chiaramente. Molto introspettivo perché lui si trova nella situazione in cui commette una cosa grave e deve, senza fare spoiler, e deve redimersi, ma non riesce più a indossare il costume. E ci arriverà nel tempo. Forse qui, in questa fase, lo rivedremo già con il costume, ma ancora non lo sappiamo. E non faccio spoiler, ovviamente. King in Black Avengers? Sì, questi tutti i tie-in dell'evento. Avengers 32, ovviamente, anche in questo caso, si prosegue con la run di Jason Aaron. Jason Aaron, che prima anche lui era un po' dappertutto, ha fatto i sette anni bellissimi di Thor, che tutti conosciamo. Infatti è un po' calato con gli Avengers. Adesso invece... Non sembra lo stesso Aaron di Thor, non so. È vero, è vero, è verissimo. Sui team, probabilmente, non è come sul personaggio in suolo, oppure... Anche perché, boh, Avengers è un sacco legata a tutti i vari eventi, che poi ci sono nel frattempo, la guerra dei regni, cosa c'è stato... Vabbè, tutti i vari eventi, per cui, non lo so, forse non è neanche così tanto libero di fare quello che vuole, come era per Thor. È vero, è verissimo. Questo qua è un fattore determinante. Infatti, quando si ha a che fare con una testata come gli Avengers, poi si è tantissimo condizionati da quello che gli succede intorno. Poi ogni personaggio ha la sua... Quasi tutti i personaggi hanno la loro run in sole, quindi diventa complicato esprimersi, quantomeno al 100%. Iron Man, anche qua, ne abbiamo viste tante, siamo arrivati con Iron Man, abbiamo visto Iron Man 2020, siamo ripartiti da capo. A chi la consiglio, a chi piace Iron Man, nei fumetti. Sicuramente non chi ama Iron Man, perché si è innamorato del Star Trek, di Robert Downey Jr., esatto. Thor numero 13 con Danny Cates, dicevamo prima. Mi sta piacendo tantissimo, inizia con un evento galattico, cioè proprio perché arriva proprio Galactus, che fa frana nel Valhalla e inizia una storia direttamente collegata con Thor. E poi, senza fare spoiler, si va avanti. Siamo arrivati al numero 13 in quest'anteprima, numero 13 chiaramente serie americana. Il ritmo secondo me è ancora alto, fin dove abbiamo letto oggi è ancora alto. Immortale Hulk, vado sempre velocissimo, non ne parliamo neanche più. Esatto, sto recuperando i vari volumi che escono, tutti bellissimi. Cartonata, adesso ovviamente siamo inoltrati con lo spillato, però chi la vuole leggere, perché sente parlare giustamente bene di questa run, ha tutti cartonati a disposizione. C'è anche una buona dose di horror, un po' che ci sta bene. È vero, è vero, è vero, soprattutto perché stupisce il lettore Marvel classico, che non è abituato ai toni noir di questa serie. Poi tanta filosofia anche, nel senso che le citazioni a inizio di ogni storia sono sempre tratte dalla letteratura, dalla filosofia, alcuni brani della Bibbia addirittura, cioè proprio molto particolare come run. Guardiani della Galassia, 10, c'è sempre Ewing, e ovviamente è collegata al... è uno dei tie-in di King in Black. Capitan Marvel, numero 22. Personalmente qua la Kelly Thompson sta facendo un ottimo lavoro, e io sono uno dei pochi sostenitori del numero 1, nel senso che avevo letto qualche feedback negli Stati Uniti, e tutti dicevano, ah beh, no, ma in Italia almeno. In tanti erano un po' scettici, in realtà è un personaggio difficile sicuramente, perché non è da lettore hardcore Marvel, però la Thompson, come su Deadpool, anche qui sta facendo secondo me un lavoro veramente greggio. Sì, infatti non l'ho iniziata, ma non sembra male. No, no, assolutamente. Ormai sta gestendo la... Ormai è lunghissima la sua run. Sì, non finisce più, cioè... Io lo difendo, però sto iniziando a cedere. Eh, boh, sì. Per quello che ho letto, boh, non è che sia eccezionale, diciamo. Esatto, va a tratti, è molto particolare. Poi soprattutto in questo numero 64 c'è questo costume molto high-tech di... Sì, è stato abbastanza criticato. Sì, sì. Deadpool numero 8. Qui c'è la Thompson, ovviamente. Come vi ho anticipato, secondo me sta facendo un lavoro egregio su Capitan Marvel. Eh, questo è l'ultimo numero della serie. Sì. Era dei mostri. E si collega con... Esatto, sì, si collega. È un tie-in anche questo con Null. E qua arriviamo a, secondo me, uno dei capitoli più belli della storia dell'X-Man con Ickman. E lo stiamo vivendo adesso. Siamo al numero 17. Siamo nel post Ten of Swords. E siamo nell'inizio dell'evento Sword. Contestualmente, quasi contestualmente con l'uscita di questo volume in Italia, negli Stati Uniti uscirà un altro evento che è l'Elfire Gala. Sì, poi... Esatto. Hanno fatto quella cosa bellissima delle votazioni per scegliere l'ultimo membro degli X-Men, della nuova squadra. E adesso proprio all'Elfire Gala ci sarà il numero in cui annunceranno il team della nuova testata che poi negli ultimi giorni abbiamo fatto uscire una notizia in cui c'erano le nuove serie che arriveranno con la nuova fase chiamata Reign of X. Esatto. E... proprio forse più che un satellite. Sono sempre importantissime, sì, però sono tantissime. Marauders, le contiamo se volete, sono almeno otto adesso, poi ce ne aggiungeranno altre. Marauders numero 15 che a me è una delle... di quelle che preferisco di più, più che altro perché ci sono... Beh, c'è Dagan che gestisce, ma poi è proprio divertente come run. Non è... non è troppo cupa, non è troppo... d'azione come potrebbe essere X-Force e non è troppo young come potrebbe essere New Mutants. È la giusta via di mezzo, secondo me, Marauders. X-Factor è iniziata da pochissimo in Italia e racconta praticamente la storia di questo team che ha il compito di accertarsi delle morti all'interno di Cracoa, perché come sapete adesso i mutanti possono rinascere all'interno di Cracoa, per evitare che rinascano dei cloni, loro vanno a verificare che il mutante che viene dichiarato morto sia morto davvero. Detta così non lo comprerete mai. Però sappiate che invece è una bella storia. Dai, dai, sì, però. Esatto. Che non è stile Jessica Fletcher e basta. C'è dentro anche una parte di storia direttamente collegata proprio con il consiglio degli X-Men e quindi interagiscono personaggi anche come Magneto, c'è sua figlia di Magneto appunto. Quindi da quel punto di vista lì è una testata importante. X-Force, l'ho menzionata prima, è molto d'azione con Benjamin Percy. Qui per i fan di Wolverine, Jean Grey, Bestia e tutti quei vari personaggi c'è da sguazzare. E arriviamo poi all'integrale. I Bonellidi. Esatto, I Bonellidi con Spider-Man di Dematteis, che per chi non lo sapesse è quel famoso Dematteis dell'ultima caccia di Kraven, che è una delle storie più belle che ci sono su... Esatto, poi ci sarà un'altra bella saga che ho letto sua, che si chiama Il Bambino Dentro, in cui c'è un... C'è una... Diciamo che c'è di mezzo Harry Osborn e... È una saga bella e importante, però non so poi a che numero... Cioè probabilmente saranno tanti i numeri, che Dematteis ha scritto abbastanza su Rania. Esatto. Tra l'altro, come diciamo anche per la DC, sono storie che... Ok, sono un po', chiamiamole, dannata, di riserva, chiamiamole così. Riserva nel senso del vino, no? Quindi qualcosa di buono che poi viene ritirato fuori. E quindi c'è anche il vantaggio che acquistandole a questo prezzo comunque si riesce ad avere una buona lettura, una buona quantità di lettura in un formato quello Bonellidi, che è comodissimo, secondo me è uno dei più comodi in assoluto. E come anche appunto per Spider-Man la stessa cosa avviene in questo caso con quello che stiamo inquadrando adesso, ovvero gli X-Men. Esatto. Sono innamorato di Claremont. Puoi dire... Puoi adesso spaziare quanto vuoi su Claremont. Ti lascio... No, no, no. No, in un'altra sede. Però questi qua adesso hanno addirittura superato il... Cioè stanno ristampando storie che sono uscite nel quarto omnibus americano. che spero annuncerà presto Panini. E se ci sente speriamo che lo annunci presto. E quindi no, no, sono storie... Cioè queste secondo me anche pur invecchiando rimangono delle grandi storie. E poi c'è... Qui in questo caso c'è anche Romita. Ai tempi d'oro. Quindi un grande Romita. Poi ultimamente è un po' calato. Però lì era il lapice. Assolutamente. Ok. Andiamo avanti sempre con King in Black. Che è super presente diciamo anche in questa anteprima. e fa parte appunto di progetto Britannia, Union. Allora diciamo che anche in questo caso Capitan Britannia l'abbiamo ritrovato spessissimo per quanto riguarda la storia degli X-Men, la run in corso. E l'abbiamo ritrovata... Dicendo ritrovata ho fatto uno spoiler potente però... Diciamo che ormai siamo... Si vede anche... Si vede anche... Eh dai esatto. Diciamo che è stato un personaggio che è stato rispolverato secondo me molto bene. Sia all'interno dell'evento di Ten of Swords sia all'interno poi di Excalibur alla fine. Perché ricordiamo anche il brossuratino che sono usciti... Che negli Stati Uniti sono usciti in spillato. Qua invece in Italia sono usciti come raccolte brossurati. Stessa cosa è avvenuta ad esempio per Fallen Angel. Sempre per stare nel mondo degli X-Men. È un personaggio che è ritornato forte. Quindi questo tie-in ha secondo me veramente senso di esistere. Ecco cioè merita. Merita attenzione. Eh si ha preso un po' il posto di Excalibur. Cioè al momento. Al momento sì. Champions volume 1 fuori legge. Qua siamo con dei personaggi che... Alcuni sono nati young adult e lo sono rimasti. Altri sono diventati un po' cresciuti tipo Morales. E... Questa è una... È un brossurato a 13 euro. È una pubblicazione che negli Stati Uniti è uscita nel... Nel 2020 lo scorso anno. E... Potremmo scommetterci qua che sarebbe... Dato che ci sono... Lato... Lato grande schermo streaming Disney Plus, quello che volete. Non so come uscirà. Si inizia già a parlare tantissimo di Shang-Chi. Come... Pretesto migliore per conoscerlo è passare prima dai fumetti. Ovviamente dove il personaggio è nato. E quindi ovviamente Panini ci offre la possibilità di andare ad esplorarlo con... Bene, per noi lettori di fumetti è meglio. Cioè... Continuassero a uscire più film e serie su qualsiasi personaggio. Così... Ristampano cose... Esatto. Anche vecchie o... Lasciate da parte per tantissimi anni. Questo tra l'altro è... È importante perché... È come uscita perché vabbè al prezzo di 23 euro cartonato... È dentro quasi una sorta di antologia. Chiamiamola così. Sì, è tipo un... Io sono Shang-Chi. Come hanno fatto gli altri volumi. Esatto. Fatto un po' meglio secondo me. Io sono a me non fanno tanto impazzire. Qua proprio... No. C'è tanto... C'è tanta storia. Però ripeto... Penso che sei d'accordo anche tu Simo. Per qualcuno che vuole iniziare a conoscere il personaggio... Sono i volumi perfetti per i neofiti. Per chi si avvicina un po' al personaggio... Anche tramite il cinema. Alla fine hanno... Hanno azzeccato il target giusto sicuramente. Esatto. E proseguiamo col Marvelverse... Che ci porta a diverse cose. Shang-Chi. Ancora, ovviamente. E qua siamo un po' più recenti... Con almeno l'ultima parte delle storie che vengono raccontate. E sempre Marvelverse. Cap. Anche qui, come sapete, c'è Falcon e Winter Soldier in corso. E ci sono tantissime speculazioni sul proseguo all'interno della serie TV. Di chi prenderà lo scudo. Di come è stato gestito il personaggio di John Walker, eccetera, eccetera. Se avete voglia di rivedere Steve Rogers... Qua ritorna. Almeno nelle pubblicazioni di... Ah, sicuro qua. Poi boh. Nella serie o nel film. Esattamente. È ancora un punto interrogativo. Questa è la raccolta della serie di cui parlavamo prima di Jason Aaron... che avevamo detto che non ci piaceva tantissimo. Adesso, ovviamente, chi la vuole recuperare può farlo. Questa è la raccolta, invece, di Doctor Strange, volume 2, il debito... che io ho letto in spillato di Mark Waid. È stata la prima lettura che ho fatto in spillato di Doctor Strange. Di solito avevo letto storie dove lui compariva come personaggio, parte di... membro di un gruppo o altre storie in solo. E a me, personalmente, è piaciuta veramente tantissimo. E me la sono proprio divorata tutta. e ha un finale che, innanzitutto, serve un assist pazzesco al chirurgo supremo che è l'arranchece in corso adesso. Sì. Che c'è in corso, che stanno pubblicando adesso in Italia. E poi va a esplorare, secondo me, dei tratti psicologici del personaggio che fino adesso non erano ancora stati trattati. Cioè, si stava molto sulla magia, si stava molto... E qua, invece, proprio viene fuori lui. Tantissimo lui, più che i suoi poteri. Sì, alla fine è un bel personaggio. Secondo me, io consiglio di leggere la run di Aaron. Sì. Che è in quattro volumi. E... E lì partiva dal fatto che lui... Cioè, che c'era tipo una... Il fatto che lui perdeva la magia. E poi aveva fatto delle... delle belle cose Aaron, secondo me. Poi non so, Cates. C'era stato Cates, ma quella parte non ho letta. Quindi non so, bene. Prima di arrivare a Wade. Sì, sì. È stata anche quella. È stata una run che... Sempre passando dei commenti... Perché anche io personalmente non l'ho letta. Però ho letto delle impressioni positive, invece. Ed è una di quelle run che mi piacerebbe recuperare. Proprio perché voglio chiudere il personaggio... Voglio proprio chiudere Cates. Sì, esatto. Per avere tutto. E... Proseguiamo con l'agente Venom, volume 2. Il circolo di quattro. Qua siamo sempre... Stiamo sempre parlando di cartonati. Questo sì è Rick Remander. Esatto. Qui c'è Flash Thompson. Sì. Sotto il simbionte. Esatto. Quindi per... Chi vuole esplorare bene il personaggio... C'è questa... Questa possibilità che sta dando con i panini direct appunto di ripercorrere... Tra l'altro è una storia del... Esatto, di dieci anni fa. Iniziata almeno dieci anni fa. Storia ma di narrati di Spider-Man volume 2. Strani incontri. Allora, qua siamo nelle storie che a me personalmente non fanno impazzire. 28 euro, 272 pagine e sono, diciamo, storie anni 90. Eh sì, era un po'... Era una collana che riprendeva i primi anni come i primi anni di attività di Spider-Man. Quindi ripresentava un po' i villain tradizionali però con nuove storie. E... Non lo so, a me stuzzicava il fatto che ci fosse Busiek dietro. Quindi autore tipo di Marvels, così, Marvel. E... Però non lo so, il primo volume non l'ho preso. E penso che non sarà neanche il volume conclusivo questo, quindi... Per i fan più accaniti. Esatto, dipende da quanto è piena la casella. Sempre quella di scrivere. Come anche per questo. Anche per Iron Man. Esatto. Beh, c'era... Iron Man, allora... Se qualcuno si vuole avvicinare al personaggio, secondo me, correggimi se sbaglio, c'è sicuramente il must have. Ex-Tremiss. Esatto. Sì, sì. Poi qualche mese fa hanno pubblicato Demone dentro la bottiglia, Demone nella bottiglia. Sì, Demone nella bottiglia, sì. Quelle sono due storie belle, secondo me, che meritano. Sempre considerando che chi non ha mai letto Iron Man, non pensate al Tony Stark dell'MCU. Non c'entra assolutamente. Sì, sì. Cioè, non lo so, forse ci si avvicina un po' l'Iron Man di Bendis, ma... È recuperabile in un omnibus gigante che costicchia, quindi non è la lettura più... No, no, ma poi, cioè... Giusto due parole sull'MCU, secondo me, quell'Iron Man è tanto Robert Downey Jr., quello dell'MCU. Sì, sì. Cioè, è tanto l'attore che ha dato un carattere, una personalità. In realtà, invece, nei fumetti troverete una persona molto più cinica, una personalità veramente che non sta... Cioè, un sacrificio così immenso come quello che ha fatto, diciamo, in Endgame, difficile ritrovarlo. Esatto. Anche perché se pensiamo soltanto a Civil War, lui è un po' più poliziotto, più poliziotto di Capitano America, alla fine, no? Dove lui accetta il compromesso dello Stato che crea questo, diciamo, controllo sui supereroi, mentre invece Cap si ribella, quindi... Sì, sì, lui, Iron Man è proprio il... Soldatino. Sì, esatto, sì, sì. Esatto, più di Cap. Per certi versi. Poi, adesso, è stata un po' una considerazione frettolosa, però giusto per avvertire quelli che si avvicinano. Sì, però si vede un po' il Cap, che per quanto simbolo dell'America, comunque, diciamo, ha quel qualcosa in più che lo fa ragionare e dire... non sempre tutto quello che è stabilito proprio è giusto al 100%, cioè che gli fa venire il dubbio. Grandi tesori Marvel, Fantastici 4, l'arrivo di Galactus, e qua, vabbè, classiconi. Irvi. Bisogna pronunciarli bene, in bassa voce, con rispetto, quasi come una preghiera. Wolverine, Black, White and Blood. Questo mi incuriosisce un casino. Anche perché... Secondo me è bello. Eh. Perché è tutto sul bianco, nero e rosso. Poi adesso lo stanno facendo con Superman, con il blu e il rosso. Con Harley Quinn anche. Con Harley Quinn anche, sì. Con la Mirkan Dolfo, se non sbaglio, la gestito. Ah, è interessante, cioè, è una prospettiva diversa e soprattutto l'occasione, secondo me, per leggere un fumetto, una storia con... cioè, dando in pasto ai propri occhi qualcosa di diverso, no? Anche dal punto di vista grafico, rispetto alle solite tavole che siamo abituati a vedere. Sì, infatti. Arriviamo ai must have. Allora, io sono di parte, perché ce li ho tutti, mi piace tantissimo, è una raccolta, come posso dire, d'elite all'interno delle raccolte Marvel, è un po' come gli Oscar Mondadori, farvela passare, no? Il concetto, quindi è una raccolta di tutte le storie più importanti della Marvel, alla porta di tutti. C'è chi ha criticato... Allora, non abbiamo mai... non abbiamo ancora... non siamo ancora schierati io e Simone, ma siamo tra quelli che, diciamo, non criticano, non sono haters di queste... di queste iniziative, anzi, quindi non ci metteremo a criticare questo volume soltanto perché è una banda oro in alto, perché chi se ne frega, cioè, è bellissima la storia che c'è dentro, è bellissima l'idea del fatto che si possa... per chiunque rendere accessibile comunque le storie più importanti. Poi è chiaro che non c'è tutto, uno inizia a leggere un qualcosa, poi dopo esplora il personaggio. Alcune storie, invece, secondo me, come Planet Hulk, piuttosto che... Vecchio Logan. Vecchio Logan. Sono belle da leggere perché ci sono tutte, altre, invece, meritano più esplorazione. Però poi... Sì, sì, secondo me... Eh no, hanno fatto benissimo a fare una collana del genere, perché è un po' la summa di tutto il... la base della Marvel. Con storie più o meno recenti, però... Ci sono grandi autori e storie spesso autoconclusive, quindi, cioè... Hai nel volume, che costa 15, massimo 20 euro, poi Planet Hulk, che è quello più cicciotto di tutti, e comunque costa pochissimo rispetto anche alle altre edizioni. e hai una bella storia. Cioè, alla fine, sono tutte belle storie. Poi io sì, cioè... Alcune sì, sono dei pezzetti di... di storie più lunghe, quindi poi se uno volesse davvero capire la storia per filo e per segno, dovrebbe un po' recuperarsi altri volumi. Però intanto hai un assaggio, capisci anche se ti piace il personaggio, quell'autore. Quindi, no, ben venga noi, must have. E in questo caso abbiamo Deadpool con La guerra di Wade Wilson, che è una storia, appunto, must have. Cioè, è difficile dire questo, non è da prendere. Cioè, una delle domande più difficili che ci capita di solito che arriva in redazione è ma questo must have merita. Oddio, cioè, se è un must have, cioè, secondo me è un motivo c'è. Sì, sì. Quello che è uscito finora alla fine è tutto... Esatto, è veramente difficile. Tutto bello, sì. Forse qualcosa di Fantastici 4 era evitabile, forse, non lo so, però dipende. Poi era evitabile, magari perché era meglio prenderlo in un altro formato, però non perché la storia in sé non fosse bella. No, no, infatti. New Avengers, Evasione, qua... Bendis. Esatto. Eh sì, questo l'ho letto, cioè, una parte del ciclo di Bendis, solo che è stato sempre pubblicato un po' qua e là, avevano fatto i 100%, volumi brossurati. Però, secondo me sono dei... erano dei bei Avengers, completamente opposti rispetto a quelli di Ickman, che poi stanno lì sotto. Ickman super cervellotico, fantascientifico e trame giganti, che poi, infatti, lui gestiva addirittura due serie contemporaneamente, che poi per un periodo l'ha fatto anche Bendis, però i Avengers di Bendis erano molto più terreni, storie che riguardavano proprio la città, e quindi più piccole per modo di dire, ma c'era un bel cast, poi a quel tempo anche Spider-Man nella parte di Avengers, come poi è un po' nel film, ma in realtà non lo era stato quasi mai. quindi, po', secondo me sono tutti e due dei bei cicli, sia Ickman che Bendis. Poi, vabbè, Ickman, secondo me, forse è il più bello, però dipende un po' quello che uno cerca nelle storie. Cioè, che tipo di storia cerca, secondo me. Esatto. Io penso che anche sugli Avengers, sempre per dare una chiave di lettura a chi si approccia per le prime volte a queste storie, perché chi è esperto, ovviamente, sa già, va a mirare quello che deve recuperare, ma chi vuole iniziare a conoscere i personaggi o i team, anche qui, attenzione a approcciarsi alla lettura degli Avengers in due casi. Uno, se si arriva dal mondo DC, perché non vengono gestiti come viene gestita la Justice League. Sono due team, due entità diverse, molto meno cupo, molto meno dark, sono molto più storia leggere quelle degli Avengers, per quanto bellissime. E poi, ovviamente, chi invece arriva dal mondo dell'MCU, che si è visto tutti i film dell'MCU e dice cazzo, voglio capire che cosa c'è dietro, scusate, ma ero preso dall'emozione, che cosa c'è dietro da... che cosa c'è dietro al fumetto, rischia di trovare una cosa completamente molto diversa. Uno, perché anche banalmente i membri del team degli Avengers cambiano da storia in storia in molti casi, a parte qualcuno che è fisso, però non sempre ci sono tutti quelli che avete visto, ad esempio, al cinema, a volte in più, a volte in meno. e poi perché le storie, diciamo, sono innanzitutto molto collegate a quel personaggio, ad esempio, nella run di Thor, che è Avenger, che scusate, che Gesonaro l'ha portato avanti negli anni più belli della sua carriera, per sette anni, Thor era bello leggerlo lì. Quando poi leggevi, magari, gli Avengers, ti trovavi un altro personaggio, trovavi qualcosa di... cioè, non sempre erano proprio collegatissime le storie, e quindi non sempre il personaggio era all'apice nella lettura degli Avengers. Magari in un momento particolare della storia dici, ah, che brutto questo Thor, perché sto leggendo gli Avengers. cioè, se in realtà, poi, sulla run in solo stava facendo Gesonaro delle cose pazzesche. Quindi, nella lettura, bisogna sempre stare attenti a capire che cosa si sta cercando. Se è un'esplorazione, diciamo, fatta a 360 gradi per conoscere il mondo del personaggio, del team di personaggi, oppure se è una ricerca mirata e quindi se si pensa di trovare quello che c'era al cinema o quello che c'era in altre parti, bisogna andare veramente coi piedi di piombo. Lo dico, lo sottolineo, perché può essere una cosa più banale del mondo per chi legge fumetti da tanti anni, ma non è per nulla scontato per chi ci sta ascoltando e vuole per la prima volta scoprire qualcosa di più sulle storie dei personaggi che ama. Qui arriviamo a Rocket Raccoon e Groot che ritorniamo con Scott Young nei Young Adult. Sì, questi, alla fine, sono delle belle raccolte perché hanno tantissime pagine di prezzo bassissimo e poi Scott Young è riconoscibile subito e poi, vabbè, Rocket Raccoon e Groot ormai personaggi famosissimi della Marvel. e dopo di che si, personaggi famosissimi anche questi hanno spaccato tantissimo esatto anche nell'MCU Marvel Masterworks qui abbiamo sta lì siamo nei classicissimi anche qui con Namor Namor è un altro di quei personaggi che vorrei studiarmi meglio e al momento conosco poco rispetto a ai più più importanti della Marvel e poi arriviamo alla fine quando di solito in anteprima sulla parte della Marvel quando si vede Conan vuol dire che è finita e Conan chiude la porta la spada selvaggio di Conan numero 14 chiaramente questa è una ah poi ultimo numero esatto contiene King Size Conan esatto con Steve McNeven che è lo stesso disegnatore di Civil War che abbiamo menzionato prima la lavorava con Mark Miller qua Miller qua Miller e qua invece autori vari esatto e entriamo con le bande nere qua del diciamo di titoli di anteprima in una carrellata super veloce perché dobbiamo arrivare alla fase finale della nostra live dove vogliamo parlare di Star Wars e vogliamo dedicare proprio gli ultimi 5 minuti 10 minuti al massimo perché abbiamo sforato pesantemente il tempo di la diretta siamo a un'ora adesso ci stavamo divertendo quindi ci perdoneranno eccolo qua allora Star Wars numero 4 Simo cosa ne pensi di quello che sta succedendo nei fumetti non ho ancora letto il rilancio però secondo me ci sono belle a livello mediatico proprio a livello mediatico c'è un grande progetto dietro con tutta l'alta repubblica e c'è l'alta repubblica da una parte poi il rilancio di tutte le testate e quindi ci sarà questo spillato qua in Italia che contiene le due serie più importanti quindi Star Wars e Darth Vader e e Charles Soul tipo sta facendo un grande lavoro secondo me e sì secondo me sono tutte belle storie cioè da quando la Marvel poi ha ripreso in mano i diritti di Star Wars secondo me ha fatto delle grandi cose a partire da Jason Aaron il primo scrittore della nuova serie e alla fine sono sempre state storie divertenti che cercavano un po' di colmare dei buchi di trama tra i film quindi cioè è bello anche poi andare a cioè per un fan più accanito dell'universo di Star Wars andare lì a cercare tutto il riferimento a quel film a quella scena dove dove cioè dove va collocata questa storia quindi sempre nella mega continuity tra film adesso poi ci sono i romanzi che rilancia Panini quindi esatto io ho letto il primo in inglese su Kindle e direi che Soul secondo me è uno degli autori più versatili nel passare da nelle trame appunto di romanzi a poi rientrare nel mondo delle storie a fumetti e è un autore che abbiamo già visto sulla Marvel in altri lidi il rilancio secondo me è la cosa più bella è lo spazio che gli hanno dato a livello mediatico quindi si vede che ci stanno investendo veramente tantissimo poi secondo me è affascinante il fatto che ok ci sia questo rilancio quindi ripercorriamo la saga principale con ad esempio questo Call of Star Wars 4 ma poi tutto quello che riguarda l'Alta Repubblica che vediamo qua già arrivato al numero 3 è un prequel del prequel del prequel che non va a mettere le basi per qualcosa di cinematografico ma lo completa quindi tutto le dieci i dieci prodotti chiamoli così che hanno lanciato lato Star Wars al cinema tra cinema e serie tv si incastrano perfettamente con con questi con queste storie ma non si sovrappongono quindi bellissimo tutto il lavoro che è stato fatto con The Mandalorian tutto quello che arriverà con Oso Catano con tutti i rilanci che ci saranno poi The Book of Boba Fett eccetera eccetera quindi lato diciamo intrattenimento media cinema e serie tv c'è tantissimo però è bello il fatto che abbiano abbiano pensato poi anche a un rilancio lato storia fumetti che sono veramente degni di nota anche perché finalmente qua vediamo dei personaggi dei Jedi nuovi e vediamo i cavalieri Jedi nella loro diciamo era più splendente se così possiamo definirla sì esatto perché si è stato un periodo poco approfondito poi l'avevano avevano un po' trattato in qualche serie a fumetti quando era di Dark Horse però adesso quello è diventato tutto Legends quindi tutto non canonico esatto quindi hanno fatto cioè molto bella questa iniziativa di un po' riscoperta del passato assolutamente io ce li ho tutti in casella cioè proprio oggi che sono passato in fumetteria a ritirare la casella che è lì che mi guarda è alta così è alta così la faccio vedere la casella è ancora nella è ancora è ancora in bustata da sbustare esatto da sbustare c'è proprio confermati tutti ho detto tutto quello che esce Star Wars in casella diretto proprio senza neanche pensarci perché voglio poi più avanti capiremo se ne vale la pena se i toni rimarranno alti sicuramente lo start è ottimo qui abbiamo invece una raccolta che è Cacciatore Italia volume 2 sì questo è sempre inedito esatto che uscirà a luglio brusolato 14 euro e contiene dal numero 6 al numero 11 di questa storia questa è invece anche qua una ripubblicazione sì questo hanno iniziato una collana di ristampe e hanno fatto bene secondo me perché io cercavo di recuperare qualche volume vecchio ma non si trova sono quasi tutti introvabili sì sì quindi questo raccoglie le due miniserie che hanno fatto su Darth Maul e quindi boh chissà poi che cosa metteranno nei prossimi esatto quindi anche per chi vuole recuperarli le storie un po' più vecchie cioè io consiglio sono sempre cioè comunque abbastanza recenti sempre del diciamo dal rilancio Marvel sì però ecco sono comunque un po' di approfondimento cioè chi vuole seguire la saga principale alla fine c'è lo spillato oppure l'alta repubblica per chi vuole approfondire qualcosa di nuovo altrimenti un po' per i più esperti o a chi piace determinati personaggi esatto non so chi è un grande fan di Darth Maul però ma io personalmente tu non hai ancora visto non hai ancora visto adesso mi sfugge il nome The Clone Wars esatto lì eh lì danno ridanno un po' di spazio a un personaggio che sembrava scomparsi invece e te l'ho spoilerato praticamente ritorna vabbè comunque l'occasione anche per 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 riscoprirlo anche sotto una chiave diversa rispetto a quella che abbiamo visto nel film e e poi il lato secondo me è interessante per chi ama vedere leggere le storie dalla prospettiva del del Villian quindi dalla parte opposta poi abbiamo le strisce quotidiane classiche volume 1 che qua sono io personalmente farei fatica oggi a leggere l'omnibus di Jason Aaron di Star Wars qui farei ancora più fatica però è il più volume più faticoso con le strisce dei giornali già il classic si vede un po' che è invecchiato sì cioè sono storie storie divertenti e così per chi vuole avere una visione un po' di tutto ciò che è stato fatto su Star Wars un po' nostalgica ma poi soprattutto secondo me se uno ha già visto i film quindi conosce quella parte di storia ok puoi approfondirla con determinate letture perché chiaramente poi nella versione a fumetti ci sono dei completamenti delle aggiunte eccetera eccetera io Star Wars Classic l'uno l'ho letto l'ho anche mezzo recensito nel senso che ho fatto un piccolo editoriale su unerpool.it chiaramente devo dire che è bello però non non la terrei come unica lettura ecco terrei sicuramente allora se dovessi scegliere così proprio per togliere tutti i veli se dovessi scegliere ho un jolly solo andrei tutta la vita sull'alta repubblica posso aggiungere qualcosa l'altro spillato di Star Wars che è il rilancio della serie posso aggiungere ancora qualcosa ok mi rivolgo ai classici mi rivolgo alle raccolte però oggi secondo me la parte bella di delle letture di Star Wars è su quello che sta uscendo di nuovo quindi l'alta repubblica sicuramente e tutti i romanzi che gli vanno dietro perché non è finita ci sono anche tutta una serie di romanzi sono d'accordo sì sì qui abbiamo un romanzo che si interlaccia completamente se si può dire così si collega direttamente con la storia di The Mandalorian con la serie tv nel senso che è proprio il romanzo della serie tv come giustamente dice anteprima e 22 euro brossurato uscirà nel mese di giugno sono 208 pagine e quindi sarà sarà una trasposizione esatto 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 una trasposizione di quella fase appunto in cui viene si narrono appunto le storie prima dell'arrivo del primo ordine che poi vediamo appunto nell'ultima trilogia di Star Wars nella trilogia sequel e lascerei quindi saluterei così con il mando il mando il mando tra di noi il baby Yoda esatto il baby Yoda aspetta facciamo salutare anche lui ecco niente diciamo che è stata la primissima live nostra della chiamiamola così sezione fumetti di nerp.it che vi invitiamo sempre ogni volta ad andare a leggere ad esplorare chiaramente come sapete ma se non lo sapete nerp.it è un portale dove parliamo di intrattenimento quindi cinema serie tv ma anche fumetti videogiochi tecnologie eccetera eccetera dove scriviamo sia io che Simone che tutte le altre persone che normalmente trovate live qui principalmente dedicato ovviamente al mondo dei videogiochi porteremo speriamo di portare sempre più contenuto sul canale di Twitch anche dedicato appunto al mondo delle storie fumetti e l'inizio appunto è stato questo anteprima 356 che è un po' diciamo quello che ci attira di più solitamente per noi che siamo fatti le occasioni migliori esatto Marvel e DC ma promettiamo in futuro anche di andare a esplorare magari le pubblicazioni sicuramente di Salda Press che ci piacciono tanto edizioni Star Comics anche che siamo particolarmente affezionati e poi con Michele che non è qui stasera ma verrà magari nelle prossime live che faremo e sempre Simone ovviamente e tutti quelli della redazione che si vogliono unire senza senza nessun limite parleremo anche magari di qualche manga magari quelli più mainstream in modo tale da catturare l'attenzione un po' di un pubblico più ampio ed è una visione con i manga appunto al 100% su tutto il panorama dei fumetti di oggi quindi direi che questa carrellata principale speriamo che vi sia piaciuta esatto finisce qua mi raccomando iscrivetevi al canale di Twitch come giustamente mi ricorda il buon bot di Stream Elements che è diventata la mia bibbia e niente diciamo che il prossimo appuntamento sicuramente sarà il mese prossimo con la prossima anteprima qualora dovesse succedere qualcosa di importante riusciamo a organizzarci anche prima perché stiamo impostando un palinsesto fumetti proprio in questi giorni chiaramente vi avvisiamo sempre tramite i nostri social quella di oggi è stata un po' inimprovvisata ma dalla prossima volta dato che sembrerebbe che audio e video reggano le annunceremo con un po' più di anticipo così almeno ci possiamo preparare Simone adesso io ho parlato troppo tocca salutare te no dai speriamo che vi sia piaciuta questa live un po' improvvisata ma alla fine dai abbiamo fatto una bella carrellata Marvel DC Star Wars e poi lasciamo la palla ai ragazzi di Games di Games che ormai stanno già iniziando a giocare per i cazzi loro non ci danno più il nostro spazio bene salutone a tutti grazie veramente perché ci avete seguito grazie da tutte le redazioni del pool alla prossima ciao 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 ciao